buongiorno a tutti vi svelo finalmente il mio progetto segreto se mi seguite su instagram trovate il link qui sotto sapete che stavo lavorando da mesi ormai ad un progetto segreto ovviamente non era segreto ho detto che erano dei fiori però finalmente sono arrivata alla fine però mi voglio tenere ancora un po in suspense perché voglio farvi vedere cosa ho utilizzato allora sono delle rose quindi trovate il tutorial video precedente adesso non mi ricordo se è l'ultimo che ho fatto comunque in uno dei video precedenti vi lascio il link diretto qua sotto sempre nell'info box al tutorial però volevo farvi vedere cosa ho utilizzato allora ho utilizzato tre tipi di perline verdi semplicemente perché non avevo non ne avevo a sufficienza per usare tutta lo stesso lo stesso colore quindi ho utilizzato questo verde che all'anima in argento è esattamente come lo vedete eccolo qua per fare le foglie le foglie delle rose è lo stesso verde che poi ho utilizzato anche per fare le rose le foglie delle rose che ho fatto nel tutorial poi ho utilizzato questo verde che è un pochino diverso non ha l'anima in argento per realizzare quel quando c'è il bocciolo che si apre sapete che tutti i fiori sono comunque racchiusi quindi quelle foglioline triangolari che si aprono e lasciano uscire il fiore praticamente non so se mi spiego non ne avevo a sufficienza e quindi ho utilizzato anche queste che sono le perline di altissima qualità sono un po iridescenti sono meravigliose che in realtà avevo preso per un altro progetto che non mi ricordo assolutamente cosa fosse nel senso che non mi ricordo se fossero in un progetto tipo di un centrino di perline però onestamente non lo so queste sono anche più grandi perché sono credo 8 0 queste di altissima qualità sono quelle che costano tipo 10 12 euro a letto poi ho utilizzato stessa qualità stessa dimensione per fare delle rose non me ne ha avanzata neanche una quindi lo vedrete direttamente nel progetto poi che in realtà pensavo mi bastassero in realtà non mi sono bastate quindi ho dovuto ordinare un altro mezzo chilo di perline questo me ne avanza è un etto e mezzo questo che mi è avanzato sono rimasta un po larga perché non avevo veramente idea di quante non c'è un intruso e non avevo idea di quante me ne potessero servire le ordinate sul sito di tiger bazar che è noto diciamo per vendere un po di materiale per fare più che altro le bomboniere e credo sia adesso perdonatemi se ne conoscete altri scrivetemelo oppure credo sia uno dei pochi in italia che vende le perline poi a eti e in questo periodo poi di lockdown onestamente non avevo in realtà voglia di ordinare online però il negozio dove compro di solito le perline a confezioni di 50 grammi non ne aveva sufficienza quindi avrei dovuto comunque aspettare è stato bello perché ho fatto l'ordine mi ha chiamato la titolare si chiama marzia è gentilissima tra l'altro e mi ha detto guarda il rosa che mi hai ordinato ne ho ordinati due tipi perché le foto lasciano molto a desiderare vi dico la verità quindi ho detto nel dubbio ne ordino due e infatti queste vanno bene le altre no? mi fa uno dei due adesso non mi ricordo quale mi manca mi deve arrivare in settimana io ho fatto l'ordine tipo lunedì o martedì e mi è arrivato il martedì mercoledì della settimana dopo l'ordine quindi insomma vabbè lasciamo poi ho utilizzato ovviamente il filo di come avete visto nel tutorial ho utilizzato quello verde per le foglie quello da 0,30 0,35 verde per le foglie ho utilizzato quello da 0,50 di rame per fare i fiori e ci ho aggiunto il cestino bando alle ciongi facciamo un po' di suspense e voilà lancia eccolo qua il mio cuscino di rose eterne almeno quella era l'idea spero si capisce si capisce allora le perline di cui non me ne è rimasta neanche una goccia sono queste che sono abbastanza chiare non me ne è avanzata neanche una infatti facciamo una cosa decente io ne avevo fatte 5 di rose ho dovuto rifarle perché comunque dovevo farne almeno una in più volevo farne meno in più quindi queste sono più piccole come numero proprio di petali rispetto a queste queste hanno una parte piccolina per fare il centrale poi ho fatto sei foglie medie e cinque foglie grandi queste invece hanno tipo quattro foglie medie no aspettate ne hanno tre di grandi le altre sono tutte grandi uguali quindi sono una due tre quattro cinque sei sette sono sette una è quella centrale sempre un po più piccolina quindi sono poi una centrale piccolina sei e poi ne ho fatte tre invece di cinque per capirci faccio bene per far venire fuori quella centrale perché non mi andava di fare solo il bordo e poi non richiamare comunque in centro quindi questo è stato per fare le altre nove questo era mezzo chilo ne ho avanzato un etto e mezzo quindi fatto il conto voi sono boccioli quindi rispetto al tutorial non c'è la foglia quella rotonda finale quella che si apre di più perché stanno comunque più chiusi poi ho messo il tutto su questo cestino che poi effettora è in rafia insomma lo vedete un po più scuro di quello che è poi vi metto la foto e l'ho rivestito con un po di alluminio e poi gli ho messo la spugna classica insomma ecco questo è quanto queste sono le foglie col verde con l'anima in argento queste sono quelle questi questi piruli qua che non so come si chiamano che ho fatto con quello in verde un po diverso che si si vede non si vede questo ovviamente hanno il colore più 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 brillante ecco che richiamano un po di più queste allora questo tempo immenso che mi ha voluto per realizzarlo spero sia valsa la pena adesso voi mettetevi a ridere tutte assieme a me perché questo doveva essere il regalo per la festa della mamma io sto registrando l'undici di giugno sono leggermente in ritardo quindi lasciatemi un commento qua sotto dicendomi faccio finta di niente tanto non sapeva che gliel'avrei regalato e glielo regalo l'anno prossimo o siccome io amo la mia mamma tutti i giorni e la tratto bene tutti i giorni glielo regalo in un giorno qualsiasi che va sempre bene scherzi a parte perché ovviamente glielo porterò perché voglio farle una sorpresa quindi non conta il giorno dell'anno in cui glielo porto stavo però pensando ad una cosa io solo per fare le ultime tre rose l'altra sera che poi di sera vi partono un po gli occhi vi dico la verità quindi ho fatto veramente fatica tenete conto che io comunque ho sempre lavorato durante il famoso lockdown quindi ho veramente continuato a farle la sera e il weekend nei ritagli di tempo e l'altra sera ho detto no devo assolutamente finire solo per fare i petali quindi senza montare ma solo per fare i petali di tre rose delle ultime tre che mi mancavano io ci ho messo quasi quattro ore perché ho iniziato tipo alle otto e mezza di sera era luna e che stavo finendo quindi giusto per farvi capire insomma il tempo che ci vuole e in realtà io magari sono lenta per carità non dico niente però onestamente per fare una rosa considerate che sono comunque montate sullo stecchino di legno e sull'anima quella in acciaio comunque nel senso che ovviamente devo infilarle sulla spugna quindi sono fatte mignonne a livello di stelo però il lavoro c'è comunque anche di montaggio ci vuole tempo quindi tenete conto che una rosa vi va via tranquillamente anche perché solo per fare questi cosini qui io ho considerato ne ho fatti sei per ogni perché su questi sono piccolini questi sono cinque perché sono un po più grandi quelle sono le prime più grandi quindi queste ne ho fatte cinque e la rosa è più piccolina ma di questi ne ho fatti sei allora fare sei con questa tecnica qua che si infila una perlina alla volta praticamente solo per fare questi quindi ci ho messo più di 20 minuti più un'ora e mezza cioè praticamente per fare una rosa vi vogliono abbondanti due ore considerando il montaggio due ore due ore e mezza vi vogliono per ogni rosa qui ce ne sono 15 e stavo l'altro giorno facendo una riflessione quando l'ho visto finito in realtà ieri sera ho detto no adesso faccio subito il video perché mi ho tenuto anche tanto in sospeso proprio per vederlo e l'altro giorno stavo veramente pensando ma se io questa cosa me la portassi a un mercatino considerato che ci sono mettete due ore di lavoro per 15 rose sono 30 ore di lavoro più tutto il materiale di perline perché ridendo e scherzando ci sono almeno di varie qualità ma ci sono almeno 7-8 etti di perline non le ho neanche contate ma solo per queste sono tre etti e mezzo queste ho dovuto centellinarle ma erano tipo altri due etti più tutto il verde ci sono almeno 6-7 etti di perline più il cestino più la spugna più questo più quello cioè onestamente l'ho detto e a quanto dovrei venderlo ma non tanto per il materiale ma proprio per il tempo perché cioè io dico cioè fa scena lo vorrei portare a un mercatino quando mai ne farò uno quando finalmente riprenderanno a farli ormai sarà dopo l'estate e dico sì ok fa tanta scena sul banco macchia che mi da cioè voi lo vendereste avendolo fatto vi faccio la domanda avendolo fatto lo vendereste a meno di 200 euro per dire un prezzo qualsiasi perché alla fine 30 ore di lavoro a me avrebbe da dire almeno a 10 euro sono già 300 euro così ma facciamo finta vendiamo la 200 250 euro voi li spendereste vi faccio questa domanda vi chiedo di lasciarmi un commento ditemi intanto se vi piace e poi quanto sareste disposti a spendere sapendo quanto ci ho messo perché è una trentina di ore più il materiale teniamo conto anche del materiale perché io solo di queste perline che per carità ne ho avanzate ma mettiamo che fossero tutte di questo genere qui ho speso 25 euro quindi tra verde e tutto cioè ci sono comunque cestino eccetera ci sono anche 40 euro circa 35 40 euro minimo non ho fatto il conto preciso ma di materiale ditemi ditemi facciamo questa riflessione insieme poi se vi va facciamo anche una vi faccio un video chiacchiericcio su questa cosa perché è sempre ciò che mi strugge nel senso questo ovviamente non lo vendo però mettetelo su un banco fa scena la persona vi chiede quanto costa 300 euro ti strabuzza gli occhi probabilmente devi chiamare 118 perché sviene bene con questa riflessione vi lascio e ci vediamo al prossimo video grazie per averlo visto fin qua spero di avervi tenuto compagnia ciao ciao